Ciao a tutti, sono Massimo Meregalli, Movistar Yamaha MotoGP Team Director e questo è il 2016 Yamaha YZR M1 Le moto forti necessitano forti servizi e questo è il motivo che siamo qui, per presentare uno dei nostri sponsor e partner tecnici Sono Gaetano Bergami, Presidente e Presidente del BMC Air Filter La firma del BMC è nata nel 1995 in Formula 1 diventando rapidamente una delle brand più conosciute in industria motocicola e automotiva Il BMC ha prodotto i migliori filtri di qualità del mondo per uso di racconto e di strada e anche delle parti composti Durante i anni, il BMC ha vinto 6 titoli in MotoGP 4 titoli in World Superbike 21 titoli in Formula 1 14 victoriasi in 24 ore di Le Mans La nostra tecnologia consiste in offrire un filtro con una struttura di 4 strada di bottone olio molti e severi test che hanno fatto per racconto di racconto che questa è la miglior tecnologia disponibile e il miglior equilibrio tra filtrazione e performance Il BMC è il miglior valore per il vostro auto e moto Escolta la qualità Escolta la qualità Go BMC Continuiamo a seguire noi durante la season e voglio prendere questa occasione di ringraziare il BMC per il suo supporto vinto Ciao Ciao